15 settembre 2022 è arrivato il merge d'Ethereum. Tuttavia non abbiamo visto grandi variazioni nei prezzi d'Ethereum. E perché Ethereum ha fatto i skyrockets che tutti ci aspettavamo? Forse qualcosa è andato storto? La notizia era scontata? Tuttavia c'è un progetto che ha fatto molto bene in seguito al merge d'Ethereum. Andiamo a vederlo all'interno di questo video. Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo ubi di questo nuovo video. Andiamo subito a vedere i top losers e top gainers di giornata. Tra i top losers troviamo Xec col meno 13,7% e Bit col meno 9,1%. Tra i top gainers invece spicca Leo col più 6,7% e LidoDAO col più 5,4% perché è avvenuto in data odierna il merge d'Ethereum. Vi ricordo Altcoin Index in questo momento siamo a 73% quindi siamo fortemente ancora a carichi sulle Altcoin e secondo me vedremo ancora un po' di rosso. Però veniamo alla notizia del giorno cioè Abemus merge d'Ethereum è andato con successo. Quindi è arrivato finalmente il merge d'Ethereum. Non c'è stato KissKey Rockets da parte di Ethereum perché sostanzialmente siamo fortemente collegati a Bitcoin ma questo segna il passaggio dal proof of work al proof of stake. È davvero una giornata storica per quanto riguarda Ethereum. In questo momento prezzo di 1590 sul daily per quanto riguarda Ethereum. Comunque abbiamo un RSI sul 46 e in questo momento rischio di rendimento dove pende? Dal mio punto di vista pende più verso il rendimento perché comunque abbiamo 24 punti in caso di Sky Rockets o di Ethereum contro gli attuali 14 in caso di dump. Quindi in breve potremmo secondo me vedere Ethereum prendere e avere una risposta e anche per quanto riguarda le Altcoin nel brevissimo. Su 4 ore si vede ancora meglio perché abbiamo un livello di 41 tra l'altro Stoker e Sai in crescita o che a partire dal 13 di settembre alle ore 20. Per cui attenzione che da qua potrebbe essere iniziata una nuova piccola salita che dove potrebbe terminare anche nuovamente sui 1700-1750 per quanto riguarda Ethereum. Però chi ne ha beneficiato maggiormente del margine di Ethereum non è stato tanto Ethereum quanto l'IDODAO. Diciamo questa piattaforma DeFi che vi permette di mettere in staking lì Ethereum. Guardate qui che Sky Rockets abbiamo avuto in giornata odierna, lo si vede chiaramente. Siamo passati da 1,65$ fino a 2,26$. Tra l'altro l'unica coin oggi in positivo che è col più 3%. Quindi secondo me essa potrebbe essere una valida opportunità nel lungo periodo. Naturalmente non sono nei consigli finanziari, nei consigli di trading. Che cosa vediamo su 4 ore? Allora su 4 ore siamo fortemente esposti però avevamo già visto come anche al 10 settembre e al 12 proprio il livello di 50 su RSI su 4 ore aveva fatto il supporto. Quindi che cosa vorrei vedere? Vorrei vedere se effettivamente magari possiamo tornare in un ipercomprato o che è a 70 con un piccolo scarico e poi boom, tornare su. Secondo me questo è più che probabile. Ok al momento ho visto l'hype che in questo momento c'è su Ethereum. Andiamo a vederlo anche sul 4 ore abbiamo già visto. E per cui andiamo a vederci alcuni dati per quanto riguarda l'IDODAO. In questo momento la capitalizzazione di mercato è di 591 milioni, guardate qua che volumi, 244 milioni in aumento del quasi 100%. Tra l'altro caratterizzata da vari pump and dump avevamo addirittura 6.20 dollari al 20 agosto 2021, successivamente c'è stato un bel dump a 1.35, 5, poi 4.80 dollari, addirittura dump a 50 centesimi e ora siamo agli attuali 1.80. Secondo me questa coin può avere un futuro perché probabilmente passerà il bear market, questa è un problema di idea. Perché innanzitutto sono stati i primi a permettere di mettere in stake Ethereum per ricevere Ethereum 2.0, addirittura con API al 3.8%. Ma che cosa hanno aggiunto? Perché si stanno sempre più evolvendo. Soleana al 5.5%, Polygon al 6.3%, Polkadot al 16.5% ma di cui fate le vostre considerazioni che sono Polkadot perché l'API è davvero immenso. E Gusama al 12.2%, penso ne aggiungeranno altre. Ovviamente più Ethereum, più Soleana vanno a ricevere gli investitori, più maggiormente ci sarà una crescita su questa piattaforma. Perché aveva questi valori così alti? Perché quando eravamo in Buran ovviamente tutti andavano a stake. Poi periodo di bear market, si è fatto un stake e ora c'è stato una piccola, per così dire, skyrocket. Ok sostanzialmente perché ovviamente seguito da Merger Ethereum secondo me andremo ad attrare maggiori investimenti. Questo sostanzialmente è il mio pensiero. Quindi, 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 quindi andiamo a vedere Bitcoin. In questo momento siamo a 20.150 dollari, ottimo sui 4 ore. Guardate qui che scarichi che siamo, siamo a livello di 37. E io mi aspetto a Bitcoin, ok? Io non ho una risposta. Se vi ricordate anche le analisi precedenti, cosa vi ho detto io? Secondo me rimbalzeremo sui 20.000. Additura siamo arrivati a 19.6, ok? Ora c'è stata una piccola risposta che secondo me potrebbe proseguire, ok? Ma di da qui a 24 ore, a 3 giorni, potrebbe essere, tra virgolette, iniziato un piccolo inverso sul 4 ore. Stiamo realizzando. E secondo me probabilmente nel breve anche le altcoin andranno a beneficiarlo. Lungo sulle altcoin sono bearish in questo momento, però nel breve 4 ore diciamo che potremmo avere risposta. Per quanto riguarda il daily, abbiamo un livello di 44. Quindi il ragionamento vale per Ethereum. In questo momento sono più pro per eventualmente un imbalzo rispetto ad un ulteriore dump. Anche se la possibilità di dump c'è, ma secondo me questo supporto di 19.6 riassorbito, ok? Dimostra comunque che c'è domanda su Bitcoin. Andiamo a vedere anche Terra Classic perché anche qua ci sono importantissimi aggiornamenti. Allora, tra l'altro abbiamo fatto 28.000. Target che io mi ero dato. Ora siamo a 1.700.000.000, quindi siamo ancora alti. Volumi sensibili cali o meno 46%, 908 milioni. E arriva anche questa notizia che l'Interpol sta cercando di estradare, così si dice, Dono da Singapore. Quindi attenzione perché vedremo se effettivamente sarà così. Io vi dico la verità, secondo me potrebbe essere anche l'ipotesi che Dono sta pagando giornali cripto, per mettere queste notizie, in modo tale da dampare e pampare Luna. Mi sono anche messo questo, ok, come ragionamento. Fatemi sapere anche voi nei commenti. Comunque parlando di LUNC, continua il bar dell'1.2% per quanto riguarda MXC. Anche in giornata ieri sono stati bruciati altri 46 milioni. Ma secondo me la notizia bomba è la seguente. Perché il 22 settembre, sembrerebbe secondo LUNC Classic Supply, ci sarà una live tra Binance, Akim, che è sostanzialmente programmatore di LUNC 2.0, cioè di LUNC, scusate, e Vegas. Ok, quindi attenzione, attenzione, perché abbiamo visto come c'è stato nella live tra Kraken e LUNC, tra MXC e LUNC, e se arriva tra Binance e LUNC potremmo vederne delle belle. Tra l'altro Kraken ha dimostrato che vuoi supportare ancora ulteriormente Terra Luna, ok, anche Terra 2.0, indicando che andranno a supportare sostanzialmente che cosa, per quanto riguarda Terra Classic, il bar nell'1.2% e anche per quanto riguarda WST, cioè la stablecoin, per quanto riguarda depositi e prelievi. Quindi direi ottimo. E tra l'altro andranno a dare anche un airdrop in LUNA 2.0 ai detentori di LUNC, per quanto riguarda chi detiene OKLUNC su Kraken. Ora andiamo a vederci anche questa notizia da parte di Edward Kim, che lui afferma, niente è cambiato, abbiamo sempre la nostra blockchain, e soprattutto arriverà anche la versione 2 di LUNA, per cui un qualcosa di pazzesco, se sembra OKLUNC che stia supportando LUNC. Quindi in questo momento che prezzo abbiamo? Abbiamo 27.821, anche qui siamo a 50, quindi siamo come Bitcoin. In questo momento però la differenza è seguente, abbiamo 20 punteri alzo e 20 punteri alzo, a ribasso. Secondo me ci sarà un ribalzo di Bitcoin e vedremo se anche LUNC rimbalzerà. Tra l'altro, guardate qua, due volte abbiamo raggiunto i 25.733 e c'è stata risposta, quindi attenzione, potrebbe essere questo il bottom? Sì potrebbe essere, però io rimango dell'idea che le possibilità, le probabilità al momento sono 50% di tornare in zona 16.000, 50% di prendere e andare su. Veramente stiamo al lancio di una moneta. Per quanto riguarda su 4 ore, invece, penso e ritengo che LUNC potrebbe far bene, quindi magari potrebbe anche andare in zona, se arriveremo in ipercomprato, anche 34, 30, questa è un po' l'idea. E per quanto riguarda invece LUNA, ok, sempre su 4 ore, guardate qui, anche qui siamo scarichi. Quindi io penso sia LUNC, ok, che LUNA, nei breve potrebbero fare bene, questa sostanzialmente è la mia idea. Darvi target? Non lo saprei, ok, sono onesto. E per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di subito di like, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto.